Allora, buongiorno a tutti, oggi parliamo del tumore del colon retto. Il tumore del colon retto è la seconda patologia più importante sia nei maschi che nelle femmine, precisamente nelle donne dopo il tumore della mammella e negli uomini dopo il tumore della prostata e quindi parliamo di tumori che incidono per il 15% circa sulla totalità dei tumori solidi. Quindi è una vera e propria malattia con un impatto sociale ed è uno di quei tumori che preso in tempo guarisce completamente, quindi una proniosi buona si viene presa nella lista iniziale. Ecco l'importanza dello screening che ormai si è diffuso praticamente nel corso degli ultimi anni a tutto il territorio nazionale, per cui oggi con lo screening si riesce a intercettare il tumore nelle fasi iniziali, nella fase di polipo, laddove può intervenire l'endoscopista prima ancora del chirurgo o nelle fasi iniziali della malattia neoplassica, quindi la denocarcinoma in sala iniziale, laddove la chirurgia è al 95% dei casi risolutiva. Quindi è molto importante la prevenzione del tumore del colon. Allora è molto importante sottolineare il fatto che benché le neoplasie colorettali, come dicevo, sono al secondo posto tra le neoplasie più frequenti sia nelle donne che negli uomini, hanno la possibilità di essere intercettate in uno stato precoce. Questo grazie allo screening, grazie al percorso biologico della malattia che parte come polipo, che non è ancora un tumore, e poi attraverso una serie di tappe si trasforma progressivamente ma anche lentamente in tumore. Il che vuol dire che è possibile facendo lo screening intercettarlo in una fase precoce. Gli screening rispetto a un decennio fa circa sono ormai sviluppati su tutto il territorio nazionale. Tutte le regioni hanno attivato gli screening con la ricerca del sangue occulto nelle feci, con un esame banale che non comporta nessuna invasività per il paziente. Il problema degli screening è quello dell'aderenza, ossia quanti pazienti che vengono invitati dai medici di famiglia rispondono veramente. Noi sappiamo che l'aderenza non è ancora soddisfacente in tutte le regioni in Italia, ma al sud ancora di meno. Al sud siamo sotto il 50%. Vuol dire che se il medico di famiglia invita 100 persone in una certa categoria di cittadini, di individui a sottoporsi allo screening col sangue occulto nelle feci, meno di 50 persone rispondono positivamente, si vanno a fare il controllo. E questo purtroppo significa perdere tutta la serie di pazienti in stato iniziale laddove la malattia può essere trattata in maniera radicale dall'endoscopista o dal chirurgo con un intervento mini-invasivo e risolutivo e ritrovarseli poi in uno stato più avanzato di malattia quando le possibilità di cura radicale sono ovviamente più basse dal punto di vista della percentuale. Sono qui da pochi giorni, ho già eseguito tre interventi di chirurgia colorettale per via mini-invasiva con dei decorsi per fortuna brillanti. Dico per fortuna perché per quanto si possa eseguire tecnicamente bene un intervento, chiaramente il decorso dipende da tante altre cose, però per fortuna sono stati interventi che hanno avuto un ottimo decorso e quello che voglio stressare come concetto è che la chirurgia mini-invasiva ci consente di permettere una ripresa veramente precoce del paziente in accordo con altri principi della ripresa precoce, quella che noi chiamiamo oggi ERAS, che è un acronimo che sta per il termine inglese enhanced, recovery, after surgery, cioè ricovero, ripresa accelerata dopo la chirurgia, che comprende tutta una serie di parametri e di azioni che vengono compiute sia prima dell'intervento che durante l'intervento e dopo l'intervento per aumentare, per facilitare la ripresa precoce del paziente e questo fatto si è visto che è associato a una migliore outcome, cioè una riduzione della morbidità, una riduzione delle complicanze possibili e a lungo andare anche un miglior risultato oncologico. In pratica il paziente viene accettato già prima dell'intervento, viene studiato per bene, vengono analizzati i suoi profili intuizionali, le sue eventuali carenze, come possono essere per esempio la carenza di ferro, l'anemia legata alla neoplasia colorettale, vengono corretti questi fattori di rischio, diciamo così, preoperatoriamente, quindi il paziente viene portato all'intervento chirurgico in condizioni ottimali. La chirurgia viene eseguita prevalentemente tutte le volte che si può fare, chiaramente, che ormai è la gran maggioranza per via laparoscopica e che significa solo dei piccoli buchetti per inserire gli strumenti di lavoro e una minima incisione al termine l'intervento per estrarre il segamento di colono che va asportato. Questo vuol dire che il giorno dopo il paziente si alza, cerchiamo di non mettere il drenaggio se non quando è strettamente indispensabile, vengono immediatamente rimossi i cateteri e soprattutto inizia immediatamente all'alimentarsi. Oggi la tecnologia ci fornisce delle strutturatrici meccaniche per ricostruire la continuità intestinale che sono estremamente avanzate, ci sanno stare molto tranquilli e quindi noi siamo convinti, con studi di tanti anni chiaramente, che la ripresa precoce dell'alimentazione sia un fattore non di rischio ma addirittura un fattore benefico per accelerare la canalizzazione, per accelerare un ritorno alla normale vita del paziente. Che vuol dire? Che un paziente che abbia un ricorso regolare, come quello che per fortuna hanno avuto questi pazienti, questi primi pazienti che abbiamo operato qui al CROB, in laparoscopia, è un paziente che in 3-4 giorni torna a casa a fare una vita normale ma che già dal primo giorno postoperatorio passeggia nel corridoio, riprende le proprie terapie se le sta facendo e riprende una dieta praticamente normale già dal secondo giorno postoperatorio. Quindi ritorno e concludo col messaggio che qui al CROB della Basilicata abbiamo tutte le carte in regola per dare le stesse prestazioni che si danno in altre regioni, in altri istituti che forse sono più famosi, più conosciuti ma sicuramente che non hanno una qualifica superiore al nostro. Questo è un istituto che ha avuto dei riconoscimenti europei sulla qualità delle cure fornite, riconoscimenti che vengono forniti soltanto a pochi istituti di ricovero di cura a carattere scientifico, per avere i quali bisogna superare una serie di prove, aderire a determinati parametri e soddisfare delle esigenze e delle richieste. L'istituto le ha superate già nelle precedenti verifiche e sono certo che le supererà anche nelle prossime. Quindi è un istituto che si mantiene su standard di livelli assistenziali e di ricerca, stress è il concetto di ricerca che è imprescindibile all'assistenza, su standard di livelli molto molto elevati. E quindi solo il messaggio questo per invitarvi a dire che qui avete il massimo delle possibilità per le cure tecnologicamente avanzate con percorsi di eccellenza in tutte le discipline dell'oncologia medica e dell'oncologia chirurgica. Grazie.